Allora, auguriamo una... Allora, è una questione particolare, signore. Particolare perché avviene da mercoledì a mercoledì, questo è un fatto semplice, no? Ma avviene in un momento anche particolare per la moda, per il paese e per il mondo. E quindi devo dire che sono particolarmente lieto della prevenzione dell'assessore che dimostra di essere così vicino alla moda come mai abbiamo avuto un'assessore alla cultura vicino alla moda. Devo dire che io ho l'espressione di questa, di una solidarietà di questa, una solidarietà di questa, una solidarietà di questa, perché devo dire che anche tutti in questo modo scherzo. E con l'idea è improvvisare qua, grazie alla prevenzione dell'assessore, che credo magari dirà due cose, qualche domanda che ti interessa, perché abbiamo visto che tutti sono sedi per andare a legislarvi, quindi vorremmo concentrarci sulla attività core business per fare il risultato. Prego, sessore. Buongiorno, se non potresti fare tutta l'amministrazione e ringrazio di avervi contribuito che vorrei riconoscere e aggiungere in nome della bellezza, soprattutto delle legate, che a volte ha scritto anche l'importante della bellezza, perché è il culto di una bellezza ragionata, è trasformata attraverso la preparazione e la formazione. E quando si parla di mondo, spesso si parla di prodotto, che è anche la moda come processo artistico, come emancipazione da tutto, che a volte ci abita dentro, inizierata attraverso i modi, indossare uno spazio nuovo e soprattutto riscoprire questa Milano, che è una grande possibilità di essere una città, all'interno della quale l'identità culturale può spazzarsi completamente e chiaramente produttiva. Quindi, spostiamo questa stagione, diciamo, che vogliamo essere un'internazionale, per trasformare la possibilità di fare un nuovo, più 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 quadro, una collezione di interessi, di valori, di nuovo per conto della storia, dei titoli e della fede. Bravo! Allora, io direi questo. Noi siamo a vostro un po' di disposizione, ci credo, di interpretare, noi dovremmo in sala stampa anche per prendere un cassetto.